E queste atmosfere, le atmosfere dei grandi poemi capolreschi già a partire dal Seicento sono molto frequentate dai compositori scrivendo teatro di Mario Gentri. I think although AR and VR are around for quite a long time now, they're gaining more and more prominence now in everyday life but also in the artistic context. Mostrare le cagioni che mi indussero a simil modo di canto per una voce sola. Quest'arte non patisce la mediocrità e quanto più squisitezze sono in lei, con tanta più fatica e dirigenza la dobbiamo noi professori di essa ritrovare con ogni studio e amore. Giudice Grazie 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 Grazie